Come siamo diventati in questo mondo, cosa sta succedendo in questo mondo? Siamo tutti traditori della vita, siamo tutti traditori. Dall'amore come siamo diventati su questa terra, come siamo diventati in questo mondo. Siamo tutti traditori di nostri fratelli, siamo tutti traditori nell'umanità. Non ci dobbiamo rendere mai. Non ci dobbiamo rendere mai. Come siamo diventati su questa terra. Ma non ci dobbiamo rendere, a rendere mai. Ma non ci dobbiamo rendere, a rendere mai, mai più.